A Francesco Greco, che ha da poco lasciato l'Istituto Italiano di Tecnologia per insegnare all'Università Tecnologica di Graz in Austria, l'idea è venuta aiutando la sua bambina ad applicare un tatuaggio temporaneo. Perché non farne un sensore usa e getta capace di rilevare in continuità parametri vitali come battito cardiaco, attività cerebrale o funzionalità dei muscoli? È nato così il cerotto ipertecnologico che promette di rivoluzionare esami medici molto comuni, come l'elettromiografia e l'elettrocardiografia, e di agevolare il monitoraggio di pazienti anziani o non trasportabili o di atleti in allenamento. Ci penserà un dispositivo piccolo, leggero, economico e facile da usare, ma capace di registrare i dati elettrofisiologici. In pratica un foglietto di etilcellulosa, uguale a quello dei tatuaggi commerciali, sul quale una stampante a getto applica degli elettrodi molto sottili ma resistenti e flessibili, realizzati con inchiostri a base di polimeri conduttivi, organici e biocompatibili. A fine utilizzo il tatuaggio si lava via con acqua e sapone. Per ora il dispositivo ha dimostrato di funzionare bene per tre giorni consecutivi, ma potrà durare più a lungo perché è anche il primo elettrodo perforabile mai creato. Potrà essere bucato da barba o capelli in crescita, come in caso di elettroencefalogramma, senza che la prestazione sia compromessa. Prossimo passo, la creazione di elettrodi wireless con transistor integrati che consentano la ricezione e l'amplificazione del segnale nello stesso dispositivo. Un paio di aziende biomedicali europee sono già interessate alla produzione commerciale. Lo studio pubblicato sulla rivista Advanced Science è firmato anche da Virgilio Mattoli dell'IIT di Genova, da Paolo Cavallari dell'Università di Milano e da Cristian Cipriani della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.